I fratelli James e Dave Franco tornano insieme in The Disaster Artist. James sarà Tommy Wiseau, il creatore di The Room, considerato come uno dei film peggiori da lui prodotti, mentre Dave sarà Greg Sestero. Nonostante il rapporto di parentela, non è stato facile per il regista convincere il fratello a unirsi al progetto. Jason Bateman, Rachel McAdams e Cale Chandler presto saranno in sala con Game Night. La storia ruota attorno a un gruppo di amici che si ritrovano coinvolti in un misterioso omicidio.